un saluto agli amici di mitico snake allora ho realizzato questo video grazie agli ultimi like che ho ricevuto sulle ultime foto postate del mio profilo instagram sono delle foto che portano con sé alcuni effetti come parti delle immagini colorate ed applicazioni di fit che purtroppo instagram non mette a disposizione questa applicazione io l'ho conosciuta tramite il profilo instagram di manuel agostini di cui un canale youtube che stimo veramente tantissimo che vi consiglio di seguire e anche lui come me condivide la passione per la tecnologia e i link per seguirlo li trovate qua in basso in descrizione l'applicazione in questione si chiama color pop ed è disponibile sia per utenti android sia per utenti ios non appena viene installata e aperta automaticamente l'applicazione caricherà l'ultima foto scattata o l'ultima immagine salvata sul nostro dispositivo e da qui possiamo veramente divertirci colorare parti delle immagini che noi vogliamo dai colori reali proprio di quell'immagine oppure andare a scegliere un unico colore per colorare parti delle immagini o l'immagine intera una volta che abbiamo scelto di colorare parti delle immagini o l'immagine intera dall'unico colore possiamo scegliere l'applicazione di tutti quei filtri messi a disposizione da color pop e mette a disposizione dei pacchetti come basic doppio tono bianco e nero summer vintage e addirittura un pacchetto western e una volta scelto il filtro da applicare non ci resta che salvare l'immagine e portarla sui nostri social o magari condividela con i nostri amici per quanto riguarda l'applicazione purtroppo non appena viene installata sul nostro dispositivo e l'andiamo ad utilizzare mette a disposizione solo il pacchetto basic e ad ogni immagine modificata compare il logo dell'applicazione stessa in basso a destra e noi per avere tutti i pacchetti a disposizione e per rimuovere il logo dell'applicazione stessa non ci resta che acquistare il pacchetto completo che costa 4 euro e 99 di cui vi consiglio veramente tanto perché rispetto ai pacchetti singoli andremo a risparmiare qualche euro per installare e provare questa applicazione vi lascio il link qua in basso in descrizione sia per gli utenti android e sia per utenti ios per questo video vi è piaciuto vi raccomando lasciate un bel pollicione in su e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale attivate le notifiche e fatemi sapere nei convegni qua in basso cosa ne pensate di questo video e dell'applicazione e condividete questo video se volete seguirmi anche sugli altri social vi lascio il link qua in basso in descrizione soprattutto su instagram dove sono molto molto attivo e noi ci vediamo sempre qui sul mio canale youtube con un prossimo video ciao